Soldati come uomini, incisioni di Anselmo Bucci. Una mostra imperdibile è quella dell'artista soldato con una mano formidabile che sarà in esposizione alla quadreria Cesarini di Fossombrone, città natale del pittore vissuto tra il 1887 e il 1955. Bucci era un incisore internazionale, ha vissuto pure a Parigi e viaggiato moltissimo. E' anche uno scrittore. La quadreria Cesarini conserva un consistente corpus di dipinti di varie fasi e maniere pittoriche e dal 6 ottobre al 9 dicembre 2018 la raccolta sarà visibile al pubblico. La rassegna è stata presentata presso la sede della Conf Commercio di Pesaro ed è un rilancio e una valorizzazione dei beni culturali della città. Assessore al Comune di Fossombrone, Gloria Mei, questa mostra è stata voluta fortemente dall'amministrazione anche per ricordare i caduti della guerra mondiale a 100 anni di distanza. Certo, cade il centenario della fine della prima guerra mondiale quindi è giusto che ogni Comune si occupa di celebrare questo evento. Quindi abbiamo l'occasione di vedere le stampe di Bucci appunto sull'argomento della prima guerra mondiale dopo che l'associazione Vernarecci, beni culturali di Fossombrone, associazione storica che si occupa dei beni culturali ha fatto questo lavoro lungo due anni di precatalogazione delle stampe che sono circa 700 in totale le stampe di Bucci presenti nella collezione Cesarini e che non sono mai state esposte perché non erano catalogate. Quindi festeggiamo un po' le due cose, no? Finalmente è fatta questa precatalogazione e in questa occasione esponiamo quelle sulla prima guerra mondiale. L'inaugurazione sarà sabato 6 ottobre alle ore 16, gli orari della mostra e quante opere si possono trovare? Allora, le stampe sono parecchie, le dividiamo in due parti. La prima inaugurazione è il 6 ottobre, la mostra sarà visitabile i sabati e le domeniche venendo in quadreria Cesarini. Per tutta la settimana, come sempre, rivongendosi al punto Iat, si può andare in quadreria a visitare la mostra e naturalmente anche la quadreria e anche tutti i restauri che sono stati inaugurati la scorsa settimana. Quindi per chi viene oggi in quadreria ci sono tante novità e tante cose belle e interessanti da vedere. La dividiamo in due parti perché le stampe sono tante e quindi questa è una prima inaugurazione, poi ce ne sarà un'altra il 9 o 10 di novembre per la seconda parte, sempre sullo stesso argomento. Anselmo Bucci ha creato la corrente del 900 ed è uno dei sommi incisori internazionali, è stato un banto per Fossombrone. Assolutamente sì, ecco, il dispiacere era che nessuno poteva vedere queste stampe. Da oggi sono visitabili, questa è una cosa molto importante per Fossombrone e per la quadreria che sta vivendo un momento, credo, molto positivo e di rinnovato splendore. Il notaio ha lasciato tutti questi beni alla nostra città e credo che sia giusto e doveroso che l'amministrazione comunale si occupi di questi beni e di valorizzarli di nuovo e di far sì che questa casa sia, come quando c'era il notaio, un posto culturale di grande movimento e per gli artisti, per tutti, insomma, ecco. Giuliano Vernarecci, presidente dell'associazione Augusto Vernarecci, lavoro di raccolta gratuito, è durato due anni per questa grandiosa mostra Soldati come uomini. Sì, diciamo che il nostro compito istituzionale è quello di salvaguardare il patrimonio culturale di Fossombrone e mettere in evidenza anche ciò che è stato nascosto fino ad oggi. Quindi è stata l'occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, in questa occasione noi ci siamo proposti per poter catalogare tutte le stampe di Bucci. e cosa importante è che ci sono in quadreria ben 615 stampe che sono state catalogate e anche sistemate da un punto di vista di archivio in modo tale da poter fare da adesso in poi una nuova attività, cioè la mostra delle stampe di Bucci. È un patrimonio enorme, unico in Italia, perché nella quadreria Cesarini c'è la più grossa raccolta delle stampe di Bucci. Sono stampe catalogate per numero, per argomento. La vostra associazione di che cosa si occupa in particolare? Appunto si occupa della salvaguardia dei beni culturali di Fossombrone e soprattutto di mettere in evidenza ciò che ancora non è stato messo in evidenza, perché il patrimonio culturale di Fossombrone è immenso, però se ne conosce solo una piccola parte. Quindi attraverso la nostra opera di volontariato cerchiamo sempre di fare un qualche cosa di più in modo tale che la vocazione di Fossombrone da un punto di vista anche culturale e soprattutto anche per quanto riguarda i visitatori sia un punto di riferimento e un punto di attrazione per quanto riguarda i turisti. Quali le caratteristiche principali delle opere di Anselmo Bucci? Ci ricordiamo anche il fondo grigio-azzurro a ricordare proprio la drammaturgia della guerra. Ma Anselmo Bucci è stato politico sulle sue opere, per cui abbiamo quelle del 1914-1915 fino al 1917 che riguardano la prima guerra mondiale, però lui si è espresso soprattutto come ritrattista, ci sono moltissimi ritratti che ha fatto Bucci ed ha evidenziato anche tutta una serie di situazioni delle varie località dove è stato, soprattutto Parigi, quando giovanissimo a 18 anni si è andato di casa ed è andato a Parigi, fino alla prima guerra mondiale, allo scoppio della prima guerra mondiale dove ha lasciato Parigi per arruolarsi come volontario nel gruppo ciclisti di Lombardi. Amerigo Varotti, direttore di ConfCommercio, che gestisce da un anno le strutture museali di Fossombrone, quindi questa mostra è un grande vanto non soltanto per la città di Fossombrone. Fossombrone ha una quantità enorme di beni culturali, tra l'altro è la città che ha dato i Natali a due grandi pittori della storia italiana, uno è il Guerrieri e uno è Anselmo Bucci. Anselmo Bucci, che è il capostipite di una corrente artistica nazionale che si chiamava 900, ha donato al notaio, donato in parte sono state acquistate dal notaio Cesarini, molte opere, molte incisioni, molti quadri. Oggi la quadreria Cesarini è un museo che contiene molte opere del pittore Bucci, ma anche di altri pittori, perché il notaio Cesarini era un collezionista, oltre che essere un mecenato. Le opere sono talmente tante che molte di queste non sono mai state viste dal pubblico. Ecco, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Fossombroni insieme all'Associazione Culturale Augusto Vernarecci e alla Confcommercio hanno deciso di allestire una mostra, anzi diciamo due mostre, perché il 6 ottobre viene inaugurata la prima mostra con un allestimento e poi successivamente verrà riallestita con altre opere, incisioni di Anselmo Bucci che fanno riferimento proprio alla Prima Guerra Mondiale. Ci sembra un'ottima iniziativa, un modo non solo per far conoscere altre opere di questo importante artista, ma anche per vivacizzare ulteriormente la vita culturale ed economica della città di Fossombroni, che ha dimostrato quest'anno una grande capacità di organizzare iniziative, eventi, attività di promozione, sfruttando l'immenso patrimonio che la città ha. La mostra riflette il carattere dell'artista e anche il carattere drammaturgico della guerra, a cento anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Sì, poi molte di queste incisioni veramente rappresentano il momento, fanno capire il momento grave, il momento difficile per il paese, per gli italiani. Bucci ha saputo rappresentarle in maniera egregia e quindi questo patrimonio che era a disposizione della città, ma non visibile perché poi gli spazi sono estremamente limitati vista la quantità di materiali, meritavano appunto di essere visti dal pubblico, che invito ovviamente dal 6 ottobre, il giorno dell'inaugurazione, a andare alla quadrina Cesarini che sarà sempre aperta con il personale della Confcommercio ed il personale dell'associazione di volontariato Augusto Bernarecci. Grazie a tutti.